Orto Botanico Benvenuti nel nostro Orto Botanico, un ambiente naturale ricreato artificialmente che raccoglie una grande varietà di piante carnivore. Iniziamo subito la visita guidata di oggi. Entrate, prego! La drovanda vesiculosa è una pianta acquatica appartenente alla famiglia dell'edroseraceale. È diffusa in Europa, Asia, Africa ed Australia. È capace di catturare gli insetti acquatici con rapidi movimenti delle bocche. Ed ecco, la catopsis perteroniana. Vive sui rami degli alberi, posti, in piena luce. È diffusa in Florida e Brasile. La drove radiciae, è originaria del Sud Africa. Forma fiori, molto colorati, con cui attira le preghe. Grazie! E adesso ecco, la drozofillum Musitani. È presente, in Portogallo, Spagna e Marocco. La prega è attratta dal profumo, emanato dalla pianta. Più l'insetto si dimena, più rimane imprigionato, finché, non muore per soffocamento o sfinimento. Ma adesso ammiriamo, la Nepenthes, ampullaria. Vive in Guinea, Sumatra, Thailandia, e Malesia. Gli steli sono marrone chiaro, e possono arrampicarsi fino a 15 metri di altezza. La Darlingtonia, è originaria del Nord America. In particolare delle zone montane, della California. La Darlingtonia, è originaria del Nord America. In particolare delle zone montane, della California. La Darlingtonia, è chiamata anche, pianta cobra. Pianta cobra. È il momento della pinguicula grandiflora. Dai suoi fiori viola, secerne un liquido discuso, atto a catturare gli insetti. Vive in Francia, sulle Alpi, e sui Pirenei. Vive in Francia, sulle Alpi, e sui Pirenei. Grazie a tutti. La visita guidata è terminata. Si ricorda ai visitatori che non è credente avvicinarsi troppo alle piante. Attenzione. 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 Attenzione!